Nuova trasmissione negli studi di Sud TV si chiama Spazio e Imprese ed è un format settimanale che si occuperà di economia. Nella prima puntata, che andrà in onda domani, giovedì 10 gennaio alle ore 21.10, si discuterà di fatturazioni elettroniche e saldi. La trasmissione sarà condotta da Alessandro Mazzaro, con ospiti Pietro Vivone, presidente nazionale Fedapi, ed Antonio Procida, responsabile centro-studio Fedapi. Nelle prossime puntate, con vari ospiti, verranno affrontati i temi più caldi riguardanti commercio, imprese e tassazioni. Grazie a tutti.